Amici di Napoli Senza Mare, siamo con Simona Zamparelli. Lei ci racconterà quella che è la storia che avete già visto legata a questo presepe virtuale, una storia fatta di immagini ma di grande, grande passione. Nativity è un'idea che parte da un ragazzo napoletano che è nato in questa città e ha portato a realizzare un sogno qui nella sua città. Tutto nasce da tre anni fa circa, io mi occupo di arte contemporanea. Un giorno Enrico mi bussa alla porta e dice Simo io ho un'idea, un'idea che è un po' diversa dalle pitture, dalle sculture, è un po' diversa dall'artigianato e lo vorrei realizzare con te. Questa cosa mi stupì e disse ok raccontamela. Ok Simo io sono di Napoli, tu sei di Napoli, a Napoli nasce il presepe, ci sono molti artigiani, nascono i poeti, nasce la storia e di conseguenza nasce Nativity. Nativity rappresenta appunto la nascita ma anche la rinascita della città di Napoli e c'è una contrapposizione che io vorrei sottolineare, la contrapposizione di due elementi fondamentali. Nell'esperienza virtuale c'è un presepe popolare e un presepe settecentesco. Questa contrapposizione nasce da dove? Dalla contrapposizione della materia, della carne, della popolazione di Napoli, quindi dei vizi e il Settecento, un'immagine alta dove si incontra una nascita, una madonna, un bambino, San Giuseppe, ma un altro bambino c'è lì a guardare questa nascita e siamo noi, e siamo noi a guardare quel mistero. La spiritualità nasce appunto dal desiderio, dal sogno di emergere. Enrico Napolitano ha voluto nascere qui in questa città, nella sua città, per far riemergere i desideri di noi cittadini napoletani. È tutto qui.